Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, due dirigenti comunali, di cui uno ora in pensione, residenti in provincia di Arezzo, sono stati raggiunti da un avviso di chiusura e indagine in merito all'incidente mortale avvenuto a San Giustino Umbro, dove un'auto con aborto 4 ragazzi impattò violentemente contro la base di un ponte. Morirono tutti e quattro i giovani. Una tragedia che sconvolse l'Altotevere Umbro e la Valtiberina Toscana. A seguito dell'accaduto è stata aperta un'inchiesta principalmente volta a verificare la manutenzione del tratto stradale in questione, la corretta posizione da parte dell'ente competente dei necessari presidi di sicurezza. Adesso occorrerà appunto approfondire e verificare se ci siano state responsabilità da parte del settore lavori pubblici della comune di San Giustino Umbro. Da qui gli avvisi che sono arrivati proprio in queste ore. A Castiglion Fiorentino invece i ladri nella notte tra mercoledì e giovedì sono entrati all'interno della scuola materna. Hanno forzato con il piede di porco una porta sul reto della struttura comunale e hanno fatto il giro delle aule in cerca di denaro. Poi si sono concentrati sulle macchinette del caffè che sono state aperte e dalle quali è stato asportato il denaro contante, i spiccioli che era all'interno. Nel caso adesso si stanno occupando i carabinieri. E adesso cambiamo argomento per parlare di PNRR. Questa mattina ha siglato un protocollo d'intesa tra Guardia di Finanza ed Asta. Garantisce quella lealtà fra le pubbliche amministrazioni, un rapporto di leale collaborazione con un obiettivo comune, assicurare che queste risorse vadano a migliorare in ultima istanza la qualità della vita dei cittadini. Guardia alta sui fondi PNRR, questa mattina la firma di un protocollo d'intesa tra azienda sanitaria e Guardia di Finanza. L'ASL si impegna a fornire dati e informazioni relativi ad eventuali profili di criticità per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Guardia di Finanza si impegna dal suo canto a esaminare e analizzare con tempestività le informazioni eventualmente fornite e poi in esito a eventuali controlli e approfondimenti al momento opportuno anche a fornire un feedback che possa consentire all'azienda di adottare i provvedimenti di propria competenza. A siglarlo i comandi provinciali della Guardia di Finanza di Arezzo, Grosseto e Siena e l'ASL la Toscana sud-est, territorio nel quale arriveranno circa 60 milioni per la realizzazione di 30 progetti. L'alleanza con la Guardia di Finanza tutela l'azienda e le comunità che i lavori vengano eseguiti bene, a norma, nel rispetto delle regole. C'è sempre il rischio che possono esserci nelle aziende, infiltrazioni, affari non corretti. Allora l'alleanza con la Guardia di Finanza rende trasparente il percorso. Quindi è un ulteriore presidio che però non va a gravare quelli che sono i livelli di burocrazia, ma sono soltanto uno strumento di controllo a posteriori che ci permette di verificare la legittimità degli vari affidamenti. Prosegue il maltempo sulla Toscana. Per la giornata di domani c'è allerta per rischio idraulico, idrogeologico, temporali forti, vento e mareggiate. Per quanto riguarda la provincia di Arezzo è previsto codice giallo per rischio idrogeologico e, illimitatamente al Casentino e alla Valtiberina, codice giallo per vento. Torniamo adesso a parlare del cantiere di via Fiorentina. Confeser Centi chiede di rimuovere la ruspa ferma proprio nel bel mezzo della carreggiata e rimandare ad agosto i lavori. Devono togliere la ruspa, riaprirci la strada e programmare di nuovo i lavori a tempo, stavolta concordandolo con commercianti e abitanti del posto perché si vede che non c'è una programmazione di fondo. Le macchine non passano, i banchi piene di roba. Lavori con questa gente che ti viene a piedi, ma meno della metà delle persone. Il pane una volta fatta, fine giornata, ve li buttati. Eh già, non è roba che puoi rivendere il giorno dopo. Strada deserta e commercianti esasperati con il cantiere di via Fiorentina fermo e la ruspa parcheggiata. Se una lumaca vuole attraversare da marciapiede a marciapiede lo può fare tranquillamente e non rischia nulla. E dentro i negozi, come vede, non c'è assolutamente folla. A prendere posizione è ancora una volta Confeser Centi che ormai da settimane sta portando avanti le stanze dei commercianti di via Fiorentina e via Marco Perenio, fortemente danneggiati dal cantiere che ha praticamente isolato un'intera arteria. Viene utilizzata via Fiorentina come un parcheggio appunto per dei mezzi pesanti che serviranno ad un cantiere che non sappiamo bene quando e se inizierà. Quindi siamo abbastanza, non solo arrabbiati, ma anche veramente molto delusi. E soprattutto ci dispiace l'incertezza quotidiana del non sapere quello che succederà domani. Questo per un'impresa è impossibile da gestire. Per Confeser Centi a questo punto c'è solo una soluzione. Chiediamo innanzitutto che questo cantiere venga disallestito. I lavori possono essere fatti più avanti, devono essere fatti evidentemente, visto che poi procedono in questo modo e con queste tempistiche, in momenti in cui non c'è la fretta di concluderli, può essere tranquillamente il prossimo anno. È anni che aspettiamo questo cantiere, quindi credo che alcuni mesi in più non sarebbero un problema. L'associazione torna a chiedere anche un ristoro per i commercianti colpiti dalla chiusura. Un indennezzo sulla base del calo di fatturato che ogni azienda potrà dimostrare. Fatto c'è una riduzione enorme, drastica del traffico auto. Questo significa non vendere, non avere gli incassi della giornata. Significa perdere appunto del fatturato importante che non restituisce indietro a nessuno. Altra misura ipotizzata da Confeser Centi è quella della riduzione del latari. Con l'allestimento del cantiere sono stati tolti i cassonetti in alcune postazioni. Questo comporta per le attività, non solo per i residenti, un problema aggiuntivo perché comunque non si sa dove poter conferire la spazzatura. Questo chiediamo che sia appunto anche questo preso in carico dall'amministrazione prevedendo una riduzione dell'imposta della Tari per il periodo appunto coinvolto. Sulla questione interviene anche Conf Commercio. I nostri timori sui tempi lunghi si stanno purtroppo avverando, ha dichiarato Cristiano Beligni. È sotto gli occhi di tutti che il cantiere è aperto ma non operativo. Se continua di questo passo ci vorranno altro che 31 giorni. In compenso i disagi causati dal blocco della strada in direzione città si sono fatti vedere subito. Ad esprimere preoccupazione è anche Gianni Fabbrini, la titolare dell'hotel a Minerva. Devo dare percorsi alternativi a quanti hanno prenotato nella mia struttura. E se per turisti del fine settimana gite cambia poco, per i convegnisti che hanno a che fare sempre con tanti impegni, il tempo e tempo contato è invece un disagio. Il calendario scelto dall'amministrazione conclude è davvero sbagliato. E adesso parliamo di un altro cantiere fermo da tempo in città, quello di via Fabio Filzi. L'amministrazione comunale oggi in consiglio ha dichiarato di valutare anche l'acquisizione. Il cantiere ormai è una catturana del deserto, addirittura ci sta crescendo una vegetazione aliena, non si sa neanche che roba sia se guardate le piante. È tutto fermo, tutto. Nulla è cambiato da quando ormai oltre due mesi fa avevamo raccolto la preoccupazione dei residenti di via Fabio Filzi, anzi, quello che era il cantiere per la realizzazione della nuova caserma della Polizia Municipale ormai è diventato un luogo facilmente accessibile. Una questione è entrata adesso in consiglio comunale con un'interrogazione presentata dal consigliere del PD Alessandro Caneschi al sindaco Ghinelli, con la quale ha chiesto di conoscere il destino dell'immobile e l'aggiornamento sulla risoluzione del contratto con il raggruppamento temporaneo di impresa, proprietario e gestore del cantiere. L'assessore a cantieri strategici per la città Marco Sacchetti ha spiegato che la risoluzione del contratto è già avvenuta, questo sta generando una copiosa corrispondenza legata al procedimento di escussione. Da un punto di vista giuridico ha sottolineato l'immobile attualmente non è un cantiere né di proprietà né nella disponibilità dell'amministrazione comunale, aspetti che configurano un problema nel problema. Mi dicono, aggiunge, che l'area è di nuovo abbandonata per cui compieremo sopralluoghi propedeutici all'emissione di eventuali ordinanze per impedire che le criticità comportino degrado e pericoli. La cosa più naturale, conclude, sarebbe ovviamente riacquisire l'edificio e portare a compimento il progetto. I lavori iniziati nell'ottobre 2021 avevano subito una battuta d'arresto lo scorso aprile. Alla base dello stop ci sarebbero motivi economici tra cui il caro materie prime e approvvigionamento energetico. Oggi dunque è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale. L'assessore Alessandro Casi ha illustrato la variazione al piano triennale delle opere pubbliche. Sposteremo alcuni interventi in fase progettuale dalla 2023 alla 2024, ha dichiarato. Adegueremo alcuni quadri economici di interventi riconducibili ai finanziamenti del PNRR, inseriremo alcune nuove opere per il 2024 e sempre quest'anno incrementeremo le risorse destinate alla manutenzione stradale. L'incremento degli importi relativi a lavori riconducibili al PNRR riguardo l'adeguamento alla normativa antincendio della biblioteca e la ex caserma Piave di via Garibaldi. Traslano invece al 2024 l'intervento ai locali di via Pelliceria, la ciclopista San Leo Pratantico, il ponte alla Chiesa Superiore e l'intervento alla scuola Cesalpino. New entry per il 2024 invece sono i lavori alla Pieve di Bagnoro, allo scalomerci di indicatore, all'immobile ex banca d'Italia. Approvata poi con 19 voti favorevoli e 10 contrari, la variazione di bilancio illustrata da Alberto Merelli. Ed infine il Consiglio ha approvato anche una delibera articolata su due punti. Da un lato l'assessore Luccherini a nome della Giunta ha chiesto al Consiglio Comunale di dare parere favorevole al completamento della Due Mari per il tratto Palazzo del Pero San Zeno con adeguamento dello stesso alle previste quattro corsie. Al di là del ricorso Altarra ha dichiarato, proprio sulla mancanta valutazione di impatto ambientale che nostro giudizio è ancora da ritenersi necessaria, tale delibera diventa propedeutica alla prossima conferenza dei servizi dove il Comune si farà forte del pronunciamento dell'Assemblea per far valere le sue ragioni e quelle dei cittadini. E accanto ai 250 mila euro per Giover 65 con pensione minima che devono pagare in un affitto, con la variazione di bilancio arrivano anche altri 150 mila euro per le risposte di cura agli anziani, in particolare per la residenzialità. Il totale, ha annunciato il vice sindaco Lucia tanti, arriva quindi a quasi mezzo milione di euro. È solo l'inizio di una serie di azioni e di un costante focus che porterà alla redazione di un piano per la terza età e nel 2024 alla prima edizione degli stati generali ai quali stiamo già lavorando con il Garante per i diritti degli anziani. Spostiamoci in Valtiberina adesso per parlare di economia. È stato infatti presentato l'avvio dei lavori a San Giovanni Valdarno della nuova sede di Visia Lab. Un nuovo stabilimento, 2600 metri quadrati adibiti a produzione, magazzino, ricerca e sviluppo, laboratori, sale e riunioni ed uffici. Sono stati presentati i lavori di edificazione della nuova sede di Visia Lab, realtà che opera nella progettazione e produzione di dispositivi medici per la diagnostica in vitro. Lo stabilimento verrà realizzato in circa 24-30 mesi dall'inizio dei lavori. Il progetto è stato depositato alcune settimane fa al Comune, quindi siamo in attesa dell'autorizzazione a edificare. Sarà uno stabilimento di 2600 metri quadrati che darà lavoro inizialmente a 50-55 dipendenti con un piano di crescita che speriamo poi possa arrivare oltre le 70 unità. La nuova sede sorgerà nell'area che ospita l'ex mattatoio consortile del Comune di San Giovanni Valdarno, che sarà così riqualificata attraverso la demolizione e ricostruzione dell'edificio in disuso ormai da anni, ma anche la sistemazione dell'area verde circostante per una superficie complessiva di due ettari. Nasce laddove vi era una proprietà pubblica, quindi comunale. L'area è stata venduta attraverso un'asta pubblica, è stata acquistata appunto da Visialab e poi realizzerà questo stabilimento. Per noi naturalmente è una bellissima notizia perché è uno stabilimento produttivo in un'area produttiva che naturalmente arricchisce un'area produttiva e va a riqualificare quest'area di San Giovanni Valdarno, è una notizia legata soprattutto al lavoro. Quindi si consolidano i due poli ad alta tecnologia aggiunta a nord e a sud di San Giovanni. Direi che la sommatoria di queste due cose in questo momento è veramente una bella notizia per la vallata. Direi che comunque abbiamo un altro imprenditore, un'altra volta con coraggio rilancia in un momento anche così complesso. Questo è un bel momento da festeggiare. A Castiglion Fiorentino si è conclusa la quarta edizione del corso di saldatura Targato, Menci, Ranstad, Airone con dieci partecipanti che hanno conseguito un patentino molto prezioso per il mercato del lavoro. Il corso di formazione è stato progettato in riferimento all'esigenza di fabbricazione dell'azienda Menci con il valore aggiunto di dare una prospettiva concreta di lavoro ai vari ragazzi partecipanti ad oggi disoccupati. 120 ore nelle quali sono state alternate una base teorica con una base pratica sulla saldatura continua dell'acciaio alla carbonio e dell'alluminio. E adesso parliamo invece di raccolta differenziata. Cresce il dato toscano ma Arezzo è ancora la provincia peggiore. Cresce anche nel 2022 la raccolta differenziata in Toscana e si attesta al 65,68% dei rifiuti solidi urbani prodotti. Dunque oltre il 65% che è il traguardo previsto dalla normativa vigente. La provincia di Arezzo però, seppur consensibili miglioramenti, si piazza all'ultimo posto tra i territori toscani con il 55%. Nessun comune aretino poi si trova tra le eccellenze regionali, ovvero quei comuni che riescono a differenziare oltre l'80% dei rifiuti. A pubblicare i dati che certificano per ogni comune le percentuali di raccolta differenziata raggiunte è stata l'Agenzia regionale Recupero Risorse. Nel 2022 comunque un terzo dei municipi aretini ha superato il 60% di raccolta differenziata con Capolona che risulta il comune più virtuoso con il 78,32% seguito da Civitella in Valdichiana, Subiano e Monte San Savino. Confermano performance oltre la media regionale anche Castelfranco Pian di Scò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Fogliano della Chiana e Loro Ciuffenna che fa un balzo di oltre 12 punti. Crescite significative anche a Cortona, Montevarchi e Monterchi, positivo poi il dato di Arezzo con il capoluogo che segna più 2,62% assestandosi al 54,30%. Complessivamente nel 2022 nella provincia di Arezzo sono state prodotte 190.850 tonnellate di rifiuti con il 55% di differenziata più 2,7 rispetto all'anno precedente. Siamo soddisfatti ma c'è ancora molto da fare, commenta il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini. I territori che registrano una maggior crescita sono i quei comuni dove le amministrazioni locali e Sei Toscana hanno dato vita negli ultimi tempi a una profonda riorganizzazione dei servizi. Dopo 57 anni dall'alluvione di Firenze del 4 novembre del 66 è stato riconosciuto come vittima Mario Maggi, operaio edile di Castel San Nicolò, morto a 44 anni nel camion travolto da una frana sulla via bolognese a Firenze. L'associazione Firenze promuove in accordo con il comune di Castel San Nicolò ha reso noto che il Ministero dell'Interno tramite la Prefettura ha ufficialmente comunicato a sua figlia Lina Maggi di aver inserito il nome del padre. Adesso voltiamo pagina un nuovo approccio riabilitativo per la scoliosi all'Istituto di Agazzi. Un gruppo di fisioterapisti del centro aria ha ottenuto l'abilitazione ad effettuare il trattamento SIS che permette di fornire risposte personalizzate sempre più all'avanguardia per le problematiche vertebrali. Il Ministro degli Esteri invece Antonio Tajani ha scritto alla Comune di Cortona una lettera di congratulazioni per la mostra Signorelli 500. Iniziative come la vostra, ha scritto, aiutano a far riscoprire la nostra identità e le nostre radici che contribuiscono a rafforzare il percorso virtuoso di crescita dei nostri meravigliosi territori. E adesso passiamo allo sport. Sarà una serata di racconti alla scoperta della vera essenza del calcio. L'appuntamento è per venerdì 27 ottobre domani alle 21 al centro creativo Casentino di Bibbiena dove lo scrittore e giornalista Francesco Caremani accompagnerà in un viaggio nel mondo del pallone tra tante storie raccolte nel suo ultimo libro. Chiedi alla polvere quando il calcio non è solo un gioco. La pena dell'autore porta infatti tra angoli sperduti del mondo tra paesi in guerra e periferie delle grandi metropoli per rappresentare questo sport come un'occasione di futuro migliore ma anche strumento di emancipazione, riscatto e terapia. Domenica invece ad Arezzo torna la 24esima edizione della Maratonina. 900 iscritti alla gara competitiva provenienti da ogni regione d'Italia, ovviamente presenti anche le punte di diamante dal continente africano al quali si aggiungono famiglie ed appassionati sfondando così abbondantemente quota mille. Sono questi i numeri della 24esima edizione della Maratonina Città di Arezzo in programma domenica 29 ottobre con partenza alle 9.30 da Via Roma e arrivo sempre ai portici. È una festa dello sport per tutti e mi auguro che sia una festa anche per tutti i cittadini che comprenderanno chiaramente domenica mattina qualche disagio automobilistico ma come sempre invito ad uscire di casa a fare una passeggiata. Presenti in città anche atleti di assoluto valore. L'anno scorso è risultata la manifestazione con il ranking più elevato per quanto riguarda le mezze maratonine d'Italia e quest'anno non a caso c'è un atleta etiope che poi è stata vincitrice nel 2019 della Scalata del Castello Helen Tola che verrà qui ad Arezzo per affrontare per avere uno dei migliori risultati al mondo nella mezza maratonina e non a caso daremo il pettorale numero uno a quest'atleta perché è quella più accreditata da un punto di vista tecnico. Per quanto riguarda il settore maschile ovviamente avremo atleti del Kenya, dell'Etiopia, del Burundi, del Marocco e anche alcuni atleti sudamericani che saranno presenti a questa competizione per ottenere il risultato che l'anno scorso è stato strabiliante perché siamo scesi sotto l'ora 1, quest'anno cercheremo almeno di mantenere quella linea lì. Dalla municipale l'appello alla pazienza e alla collaborazione. Il percorso è simile a quello degli anni precedenti quindi si chiede che per una mattina si lasci i veicoli nel garage e quindi si viva la città a piedi. Torna anche il cuore in corsa per le scuole aretine e il villaggio sport e salute in piazza Sai Jacopo. Sicuramente c'è una grande partecipazione da parte del nostro istituto, studenti ma anche docenti, personale scolastico in generale, proprio perché è una bella iniziativa di sport ma proprio a livello sociale, è un modo per vivere la città e la nostra è una scuola della città di Arezzo quindi c'è questa volontà di vivere la città in un contesto sportivo positivo che ha una grande presa su tutta la nostra comunità scolastica. È un modo per avvicinare i ragazzi al podismo e comunque è un modo per farli stare insieme per far passare loro una bella mattinata e perché no magari per invogliarli a diventare degli agonisti. In strada infine anche i fischietti coinvolta la sezione AIA di Arezzo. È una corsa tappa a livello nazionale e si sviluppa all'interno di manifestazioni locali. Quest'anno è stata accolta la nostra richiesta come sezione arbitri di Arezzo e come comitato regionale arbitri Toscane di poter partecipare come associazione nazionale arbitri. Mille atleti di Taekwondo invece combatteranno ad Arezzo per il Toscani Open. Il campionato interregionale in programma sabato 28 e domenica 29 ottobre al Palace Portestra Mario D'Agata è promosso dal Comitato Toscano della Federazione Italiana Taekwondo con il patrocinio del Comune darà vita a due giornate ricche di incontri tra bambini, ragazzi e adulti provenienti da tutta la penisola. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.